In Fate Grand Order esiste una particolare classe di Servants nota come Beast. In questa classe ci sono tutte quelle creature appartenenti all'areame demoniaco, che rappresentano i sette vizi umani. La caratteristica di questi Servant è che non sono giocabili e fungono da boss, qualcosa del genere, ed ognuno di loro rappresenta un vizio umano. Partiamo subito con il parlare dei Servant che mi piacciono. Tiamat, basata su una divinità caotica della Mesopotamia, che è la bestia che rappresenta il vizio umano della regressione. Ciò che adoro di questa Servant è il suo design accattivante, con quelle immense corna e quell'aspetto innocente che nasconde il volto di una mostruosa creatura che sembra appena uscita da un film horror. Ora, già io adoro moltissimo le pipette di Gilgamesh e anche i miti della Babilonia, e quindi in tutta franchezza posso affermare che la presenza di Tiamat mi abbia, in un certo senso, fatto molto piacere. Ma non solo. Un'altra cosa che adoro di Tiamat è che tu vedendo questo personaggio ha immediatamente la sensazione di essere davanti ad una divinità. Ed in effetti Tiamat era una divinità legata al caos, ok? Quindi legata al mondo oscuro. Poi c'è Goetia, che rappresenta il vizio della pietà. Questo Servant è quello che personalmente ritengo il più spaventoso di questa classe. Il suo design e la sua storia fanno venire la pelle d'oca. Goetia non è che un aggregato di 72 demoni infernali, e c'è un riferimento anche molto paese all'ars Goetia, che è quella di Salomone, se non ricordo male. Quello che mi piace di Goetia qui è il suo aspetto demoniaco. Generalmente negli anime gli demoni sono molto, ma molto umani, ok? Hanno degli aspetti umanizzati e non fanno molta paura. Mentre in questo caso qui tu hai davanti un vero demone. Ed in effetti questa è la cosa che più mi piace di questo Goetia, e cioè sembra un vero demone, sembra davvero cattivo. Quindi Goetia e Tiamat sono i due Servant che più mi piacciono di questa classe. Perché hanno degli aspetti mostruosi, demoniaci, e si capisce che sono davvero pericolosi. Il loro aspetto, la loro storia, urlano distruzione, urlano flagelli per il mondo e per la razza umana. E i loro design sono originali al 100%. Non c'è nulla di negativo che posso dire su questi due. Seriamente, sono praticamente perfetti per me. Ma dal momento che io sono una testa di cacca, ho deciso di dedicare poche righe ai Servant che mi piacciono e criticare quei Servant la cui esistenza mi dimostra che Fate Grand Order si comporta. La maggior parte delle volte è come se fosse un distributore di materiale per rasponi. La Servant di cui parliamo è Sakura Matt, cioè Kama Mara, ovvero l'ennesimo clone di Sakura, ma con gli abiti molto sexy. E costei è una beast, una bestia. Signore dei demoni e demone della lussuria. Già. Iniziamo a parlarne poco alla volta, senza fretta. Stavolta non mi metterò a parlare della sua biografia o delle sue abilità, perché il mio problema questa volta non è tanto con le specifiche di questo Servant, ok? Come con Giulio Cesare o con Romolo o per esempio con Nerone, ma con la sua stessa creazione. La sua esistenza è semplicemente qualcosa di vomitevole. Perché sono così stronzo? Perché questa Servant è una troia. Ma non una qualsiasi. Attenzione. Iniziamo a parlare del suo aspetto. Beh, non devo dire niente in realtà. È semplicemente un altro clone di Sakura Mato. Fine. Zero originalità. Stessi capelli, stesso corpo. Vabbè, dai, ha gli occhi rossi e demoniaci. Roba da pelle d'oca, seriamente. Una cosa così oscura non si vedeva da molto tempo. Gli occhi rossi non sono mai stati usati nella storia degli anime per far capire che qualcuno è demoniaco o comunque cattivo. Wow, attenzione, originalità, signori. Il suo costume è quello di una danzatrice, ma molto più erotico. Praticamente è un vestito che sembra quello di una che la dà via come il pane. Ma una persona intelligente potrebbe dirmi Guarda che quell'aspetto è così seducente perché lei rappresenta il vizio della lussuria. Lo so, lo so che rappresenta il vizio della lussuria. L'ho letta anch'io la sua biografia. Ma c'è un problema. Se io ti dicessi così, a caso, che anche Chiara è un demone della lussuria, che anche lei appartiene alla classe Beast, e che l'unica differenza fra le due è che rappresentano due tipi d'amore diverso, cioè due tipi di lussuria diverse, difenderesti ancora questo personaggio? No, perché qui c'è un problema. Se fossi una persona divertente, lascerei passare. Ma non posso non notare che questa è solo una giustificazione per far svestire Sakura ancora una volta. Sul serio, ma ci voleva davvero tanto a creare un altro servant originale come Tiamat Egoezia? Perché devo subire l'ennesimo clone di Sakura anche in questa classe di servants così interessante e ben studiata? Quando prima le ho dato della troia, non è che ho dato della troia perché veste in un certo modo. Perché, per fare un esempio, per Tiamat non ho detto niente. Io con Tiamat non ho problemi. Perché è Sakura! È questo personaggio qui che è letteralmente una troia. Perché lei è solo lì per fare la troia. Lei è solo materiale da masturbazione, nient'altro. Non ha nulla di bestiale, nulla che sembri pericoloso, nulla che possa essere uguale a questi due servant, Egoezia e Tiamat. Questa servant è come una spogliarellista, non è un demone terrificante, perché il suo scopo è solo quello di sedurre l'audience. Fine. Non mi credete? Allora come cazzo spiegate questa roba? Per coloro che amano le Loli, ecco Sakura Loli. Per coloro che vogliono la classica Sakura, ecco qua. Per coloro che vogliono Sakura, ma con le tette più grandi, ecco a voi Sakura con le tettone. Questo personaggio ha una sola funzione, una funzione soltanto. Essere la protagonista di un qualche entai con i tentacoli. Fine. La ragione per cui me la prendo tanto è che Fate Grand Order sembra voler essere preso seriamente, certe volte, ma altre volte è semplicemente un gioco ecci da quattro soldi. Tesoro, se voglio vedere delle tette in un gioco sul cellulare, non vado su Fate Grand Order. Vado dalle navi di Azur Lane. Qui mi aspetto un minimo di serietà. Con Tiamat Egoezia, il team creativo ha dimostrato di saper dare alla luce dei personaggi mostruosi, davvero spaventosi, con design unici nel loro genere. Ma con questa camamara hanno semplicemente toppato. Cioè, tanto valeva non farla. E poi, se proprio vuoi fare un demone della lussuria o roba del genere, perché deve essere donna? Insomma, qui ci vuole un minimo di cultura generale, ok? Le succubi erano donne che consumavano dei rapporti carnali con degli uomini, ok? Prendevano il loro sperma, si trasformavano in maschi e mettevano incinte altre donne. Quindi erano creature che fondamentalmente avevano due sessi. Perché quando tu parli della lussuria, parli della lussuria sia maschile che femminile. I demoni della lussuria generalmente tendono ad essere ermafroditi, perché rappresentano, di nuovo, la lussuria maschile e femminile. La lussuria in senso generale. Su questa idea nasce Slanesh. Ecco, poi, parlando del principe del caos, lui lì, Ecco, se mi avessi fatto una kamamara come Slanesh, non avrei detto niente, perché avrebbe avuto senso. Cioè, cavolo, è una bestia, rappresenti il vizio della lussuria, ermafrodita, dico, ok, va bene, dai, ci sta, è logico. Ma così no. Perché il tuo scopo qua era soltanto quello di farmi venire un durello. Ma allora io non posso approvare. Non approvo, perché quello che fai è ricreare una servant beast che rappresenta un vizio che già era stato preso da un'altra, con la scusa che sono due versioni differenti dello stesso vizio. Appunto è una scusa di merda, poi. E fai tutto questo solo per mostrare l'ennesima Sakura sexy. E per me è idiota, va bene? Posso capire i costumini da bagno per le servant femmine? Va bene, non mi lamento. Porca puttana, sono pur sempre l'idiota che gioca Dead or Alive. Ci sono abituata a queste cose. Ma qui semplicemente mi prendi per il culo. Avere questa lupa nella classe beast è semplicemente orribile. Non fa paura, non fa impressione, fa solo venire voglia di cercare dei dojinji. Fine. E poi, se non vado errato, la servant beast viene dopo quella assassin. E quindi potevano tranquillamente tenere la assassin e basta. Ma non rovinare questa classe con una servant inutile e banale.